Mister, un Pontevomano con più motivazioni, ma nonostante tutto la Torrese non ha demeritato e ha comunque giocato fino alla fine. Sì, non abbiamo demeritato, però nella fase cruciale della partita siamo stati disattenti, abbiamo avuto poca attenzione, poca cattiveria. È vero che il Pontevomano si giocava qualcosa di più importante, però noi, come ci diciamo già da troppo tempo, dobbiamo onorare questo campionato fino alla fine, perché è giusto anche nel rispetto delle altre squadre. Nonostante tanti errori siamo rimasti agganciati alla partita, abbiamo provato fino alla fine a rimetterla quantomeno in un risultato di parità, non ci siamo riusciti, però insomma non mi è piaciuto fino in fondo l'atteggiamento dei ragazzi, perché ripeto, sapevamo delle difficoltà della gara, però mi aspettavo qualcosa di più. Mister, l'abbiamo vista scherzare con Cristofori che le ha detto, quando riesco a batterla mai, praticamente la Torrese ha perso, però il Pontevomano ha comunque avuto il merito di crederci fino alla fine, anche se ha avuto anche diverse occasioni che non è riuscita a sfruttare. È una partita durissima, tosta contro una squadra forte che oggi era rimaneggiata a causa di squalifiche e infortuni che avevano, sicuramente è una delle migliori del campionato, venire qua e vincere non era facile, ci siamo riusciti con grosso impegno, siamo stati bravi, non dovevamo fornire a loro situazioni per prendere gol, quindi dovevamo essere bravi a difendere, a attaccare. Abbiamo fatto la partita, anche se c'è da dire che forse qualche errore sottoporta di troppo, ci poteva costare anche alla fine il pareggio e in questo momento non possiamo tralasciare nulla, ogni particolare importante, ogni situazione importante fino alla fine, se vogliamo salvarci. Qualche tempo fa ai microfoni di Matteo Falzon ha detto che stava anche riflettendo sul fatto di lasciare la squadra in queste ultime partite, cosa le ha fatto cambiare idea? La convinzione dei ragazzi di volersi salvare, tutto quello, non è l'allenatore, l'allenatore propone, i ragazzi fanno, se i ragazzi dimostrano che si vogliono salvare, oggi l'hanno dimostrato, vuol dire che il gruppo è compatto, è coeso e si può andare avanti, poi ci si può riuscire o no, però sai che c'è una base per lavorare. L'hanno fatto, ci siamo preparati bene in queste settimane di sosta, oggi si è visto, però non è finita qui, dobbiamo ancora fare tanto.